Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nostro viaggio lungo gli arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia. Oggi incontriamo una delle carte più umbratile, umbrosa, cangiante e che dà parecchio filo da torcere in una lettura. Mi riferisco all'arcano numero 18, eccolo qua, la luna, perché lei stessa è continuamente cangiante, si permette il lusso di addirittura morire e rinascere dopo quattro giorni, di essere vista di giorno e di notte. Ma prima di tutto partiamo, come sempre, dall'aspetto iconografico. Ci troviamo intanto di fronte a uno degli arcani che maggiormente è cambiato dalla versione, diciamo, dei tarocchi storici, quelle che troviamo utilizzate nelle corti italiane tra il Quattro e il Cinquecento e i tarocchi che stiamo utilizzando noi, quindi i tarocchi di Marsiglia. Se prendiamo per esempio questo bellissimo tarocco denominato di Carlo VI, che è databile alla fine del Quattrocento, troviamo per esempio appunto la Luna e sotto degli astrologi che stanno facendo determinati calcoli. Altre volte invece abbiamo sempre la Luna, ovviamente, e sotto una figura femminile che può anche essere Artemide, può essere evidentemente Diana, idea strettamente collegata alla Luna. Qui cambia tutto, come possiamo vedere, la simbologia diventa molto più complessa, ma non per questo non così facilmente decodificabile. Allora ci proviamo partendo dal fondo della carta, dalla parte inferiore. Ci troviamo con questo aragosta gambero che sta uscendo da questo pozza d'acqua, diciamo così. Può apparire strano, può sembrare strano il gambero, in realtà non è così strano perché già nel Medioevo il gambero come il granchio erano animali associati alla Luna perché? Perché rappresentavano la costellazione del cancro, la quale risente appunto dell'influenza della Luna. E in un trattato di iconologia di Cesare Ripa si dice anche che il gambero, così come appunto il granchio, cammina avanti e indietro, quindi cambia continuamente di posizione esattamente come la Luna. Questa pozza d'acqua che sembra in effetti qua quasi un lago, nella versione Kamoa Jodorowsky, probabilmente in realtà rappresenta il mare e siamo di fronte a una marea, fenomeno ovviamente legato ancora una volta alla Luna. Ci spostiamo più in alto, troviamo due animali, potrebbero essere dei lupi o dei cani, ma poco cambia perché ovviamente sono entrambi animali strettamente collegati, connessi naturalmente alla Luna, urlano, abbaiano alla Luna. L'aspetto interessante è invece che abbiano un colore chiaro, un colore scuro, che nella versione in realtà di Jodorowsky e Kamoa sono diciamo più giallo, quasi carne e azzurro. Perché? Perché Andrea Vitali suggerisce che nel Medioevo già la rappresentazione di due cani, colorito scuro e colorito chiaro, rappresentavano l'alternarsi del giorno e della notte, a indicare insomma che la Luna è l'unico astro che in effetti possiamo vedere sia di giorno che di notte. Ci spostiamo ancora più su e troviamo due torri, una ermeticamente chiusa e l'altra invece aperta. Sempre Andrea Vitali suggerisce che potrebbe trattarsi in realtà di due fari, che proprio come la Luna da sempre guidano, indicano la strada ai naviganti e ovviamente in particolar modo ai marinai. E poi finalmente la Luna, Luna che nella versione tarocco tipo 1, quella che avevamo visto già con Noblet e che qua vediamo invece nella versione Dodal del 1715, è frontale e che poi invece in tarocco tipo 2, quello che stiamo utilizzando, diventa invece di profilo. C'è qualcosa di misterioso, qualcuno infatti ipotizza che dietro alla Luna ci sia in realtà il Sole che quindi stiamo assistendo a un'eclissi, così come misteriosa è questa sorta di pioggia, di rugiada colorata che può ricordarci insomma la grandinata colorata che abbiamo visto nell'arcano 16 della Maison Dieu, l'aspetto curioso è che le gocce hanno appunto, sembrano andare insomma al contrario, hanno la punta che va in giù e vedremo come nel Sole succederà l'esatto opposto. Quindi una carta ricchissima da un punto di vista simbolico, ma ora cercheremo di capire anche l'aspetto interpretativo. È facile se vi imbattete in un manuale di cartomanzia vedere associata a questo arcano elementi nefasti, negativi, angosce, paure, malattie e quant'altro, la solita ormai interpretazione unilaterale che io amo così tanto. In realtà ovviamente le cose non sono così, sono anche più complesse naturalmente, nel senso che questa è una carta molto ambigua, ambivalente, che sicuramente è duale, l'abbiamo visto, i cani, i cani stanno abbaiando oppure stanno cercando di leccare queste gocce, le torri, le torri sono aperte, sono chiuse, quindi ci sono tutti questi elementi anche angoscianti, come d'altronde è appunto cangiante proprio la Luna che ci fa cambiare continuamente d'umore, pensiamo ai tanti modi di dire che sono rimasti nell'italiano, avere la Luna storta, avere la Luna di traverso, per arrivare ovviamente al lunatico, che la persona umorale per eccellenza va del lunatico, poi parlerò più avanti. C'è da dire un altro elemento fondamentale, che la Luna rimanda a due elementi essenziali, l'elemento femminile e l'elemento notturno, che sono strettamente collegati. Cosa voglio dire con questo? Beh, che se il Sole rappresenta l'astro diurno, l'astro che ci fa vedere le cose come sono realmente, ci fa vedere la realtà, la Luna, astro notturno, invece no, anche nelle serate, nelle nottate di luna piena, noi non vedremo mai perfettamente e quindi dobbiamo utilizzare altri sensi, oltre quello della vista, oltre al fatto di dover camminare con più attenzione, evidentemente, per non cadere. Cosa c'entra tutto questo col femminile? Beh, c'entra prima di tutto perché da sempre la Luna è associata al femminile per il ciclo mestruale, anche se vogliamo per questi cambiamenti umorali che sono spesso collegati appunto al mondo femminile. Possiamo però dire questo, che se il Sole rappresenta appunto, come ho detto prima, la razionalità, è un elemento, è un principio assolutamente maschile. Il maschile è tutto ciò che è legato alla razionalità, al doverismo, al pragmatismo, mentre è assolutamente femminile tutto ciò che è legato all'immaginazione, all'intuizione, il famoso intuito appunto femminile, vedere la realtà sotto una luce diversa. È evidente che, quando parlo di femminile e maschile, non intendo uomo-donna, ci sono uomini con, diciamo, attitudini prettamente femminili e donne con attitudini prettamente maschili, e già Jung parlava di anima e animus a indicare questi due lati, una componente maschile nella donna, una componente femminile nell'uomo, componenti che evidentemente devono incontrarsi, ma che poi possono essere, diciamo, prevalenti in uno o nell'altro. Quindi ci muoviamo in quel campo lì, ci muoviamo nel campo della intuizione, della ricerca, se vogliamo, anche di un qualche cosa che vada oltre la ragione, che attiene alla spiritualità. E qua entra in gioco anche un altro elemento, perché se il linguaggio razionale della quotidianità è quello della prosa, l'elemento prosaico, appunto, invece la poesia si apre a un linguaggio completamente diverso, al linguaggio appunto dell'immaginazione, dell'intuizione. La lingua poetica dice una cosa ma ne sottointende evidentemente un'altra. Quindi questa carta è strettamente legata al mondo poetico, al mondo artistico, al mondo creativo. E qui non posso non citare il mio amatissimo Giacomo Lopardi, che parlava appunto di poetica del vago e dell'indefinito e che aveva nella luna la sua massima, evidentemente, interlocutrice. Quindi davvero la luna ci fa entrare in un altro mondo, il mondo dell'intuizione, della poesia, della creatività, di questa immaginazione, fantasia che si scontra contro la razionalità. Tutto bello, tutto figo? Beh, no, non proprio, perché naturalmente la luna tiene anche da una parte una sorta di animalità. Ovviamente mi riferisco al mito della licantropia, l'uomo lupo, e quindi un qualche cosa da cui stare attenti, ma anche al tema della follia, evidentemente, e anche qua mi servo nuovamente della letteratura, perché non posso non citare l'Orlando impazzito per amore che perde il senno e a stolfo, che va a recuperare proprio sulla luna il senno di Orlando. Quindi c'è un elemento da cui bisogna stare attento e questo mito, questo episodio di Orlando viene ripreso anche da Calvino nel Castello dei Destini Incrociati, libro straordinario che avevo già citato e che si ispira ai tarocchi, dove Calvino appunto dice che definisce la luna il delirio dei poeti. Ecco, il pericolo, non c'è dubbio, è questo. Ho detto prima del lunatico, per esempio, beh, in inglese la parola lunatic ha una valenza decisamente più negativa, più legata alla psichiatria, diciamo così, più legata alla follia. E anche qua posso citare una grandissima opera come Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, il lato oscuro della luna, che va a chiudersi proprio con Brain Damage, cioè con danni cerebrali, il danno cerebrale dove the lunatic is on the grass, il lunatico, inteso come pazzoite, è sul prato e dove Roger Waters fa dire, fa cantare a David Gilmour, there's someone in my head but it's not me. C'è qualcuno nella mia testa, che non sono io. Quindi il pericolo è però la follia, il pericolo è l'aguato. Allora in una lettura è estremamente complicato riuscire a capire quanto la luna ci stia indicando che siamo in un momento troppo razionale di eccessivo pragmatismo e dobbiamo lasciarci andare alla intuizione, alla magia, alla ricerca di spiritualità, all'inconscio, o quanto all'opposto ci stia suggerendo che in realtà siamo già troppo in quel mondo lì e dobbiamo tornare, diciamo così, coi piedi per terra, così come possa, può indicarci il dover affrontare le nostre angosce, il sogno che diventa incubo, le nostre fantasticherie. Da un punto di vista della psicologia analitica anche Claudio Whitman rimanda a questi elementi che vi ho detto, l'elemento quindi del notturno, quindi la luna che ci in qualche modo spinge a indagare proprio la specificità di una coscienza che prospera in ambiente notturno, così come l'elemento animalesco che però è positivo, il lupo addomesticato che diventa cane è proprio l'animalità dell'inconscio in parte addomesticabile o addomesticata dalla coscienza, però la luna che fa anche emergere appunto contenuti sommersi nell'inconscio che giacciono quindi nella profondità psichica quando siamo nel mondo dell'inconscio, d'altro canto tutte le carte o gran parte delle carte della seconda serie diciamo dall'undici in su, dal dieci in su, sono legate fortemente all'inconscio e quindi anche come accennavo prima alla luna come simbolo dell'anima, archetipo quindi appunto femminile e umbratile come dicevo prima che nutre la consapevolezza, si nutre di spiritualità, di cintille divina, di immagine dell'inconscio ma anche per questo che può essere per certi aspetti pericoloso, quindi come abbiamo visto una carta veramente ricchissima che dà parecchio filo da torcere in una lettura. Dal diciamo così principio femminile e materno della luna ci sposteremo più avanti al principio paterno e maschile del sole, ma di questo parleremo. Io per ora vi ringrazio, se volete lasciare un commento, una critica, un giudizio, quello che volete lo potete fare naturalmente qui nei commenti, io vi saluto e vi ringrazio. Ciao!